Ragazzi, adesso vi faccio vedere alcune cose che ho preso proprio di recente, recentissima, l'accessorize questa bella collanina beh, più che collanina, questo è un vero e proprio collier 19,90 ve lo faccio rivedere meglio questo è il motivo principale poi, partiamo con gli orecchini questi sono simili a quelli che avevo preso dalla Primark per quanto riguarda il modello, però i colori sono più splendenti 7,90 euro poi questi bellissimi, sono che diciamo sono i colori predominanti sono rosa rosa bianco e questo qua è una porpora borgogna colore molto carino 14,90 poi questi funziona così si attacca qua così e poi si fissa con questo molto caro molto caruccio 19,90 in pratica in pratica costa come la collana però devo essere sincera sono molto molto bella sono molto molto bella per il ragno tipici di halloween 3,90 euro aspetto di travestirmi da halloween credo che ritorno all'accessorize per prendere il resto della roba allora perché voglio ritornare all'accessorize allora ho visto un sacco di cose per il trucco ho visto il barattolino di sangue anzi il tubetto di sangue finto grosso così poi il sangue fatto a gemma che vi attaccate sulla faccia poi le sopracciglia tutte belle disegnate da attaccare quindi diciamo a seconda di quello che vi volete fare c'è tutto poi la parrucca quella sfumata che diventa nera e poi rossa l'ho presa lo farò vedere un'altra volta però lo lasciate in macchina poi 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 cos'altro che mi interessa sono quelle mascherine che si mettono qui veramente molto belle molte molto carine e credo che prenderò anche una di quelle anche se non so quando lo userò forse magari per carnevale e questo è tutto quindi vi consiglio se vi visite da halloween fate un giretto all'accessorise trovate qualche accessorio veramente bello un saluto a tutti ciao 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 ciao